Quando si toglie il filo, il filo deve andare sempre da questo lato. Lo prendiamo, lo riponiamo nel suo tassettino e facciamo lo scatto. Chiudiamo il cassettino, lo mettiamo qui, lo rimettiamo qui, poi qui. Poi lo mettiamo così, poi riandiamo in qui, poi lo mettiamo. Ci sono pure quelle cose che infilano. Grazie. 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 Che punta abbiamo sempre.